L'arte del passato ci dà un po' l'idea che quello è un po' il ritratto di un'epoca. Non so se l'arte contemporanea riesce ad essere il ritratto della nostra epoca. Nel senso che l'arte contemporanea è un ambito molto piccolo, molto ristretto, molto specialistico della nostra cultura, che invece è una cultura visivamente molto forte. Diciamo che è un po' un terreno di riserva. Lui succedono tante cose diverse. Mi piace molto l'idea che è un mondo parallelo. Gli artisti contemporanei lavorano per il potere. E quindi o sono connidenti, oppure tentano di abbatterlo, ma spesso anche in un modo dove noi rappresentiamo la cattiva coscienza soltanto, senza essere effettivi. E ci lasciano questa possibilità di parlare proprio perché si sa che non abbiamo questa capacità di essere efficaci fino in fondo. Cambia molto di più la mentalità della gente, un film o la televisione, di quello che può fare l'arte contemporanea. Anche se dialoghiamo con l'elite, e queste elite magari sono anche interessate a essere influenzate da quello che li portiamo a noi. E la qualità espressa dall'arte non necessariamente è lo specchio della qualità della bontà che esprime una certa epoca. Perché l'arte vive un po' indipendentemente anche da queste cose qui. C'è una corrispondenza fra la migliore arte possibile e la migliore committenza possibile. E la migliore committenza possibile è molto importante per fare della buona arte. No, io non penso che sia fatto difficile il committenza contemporanea, penso che l'arte contemporanea è molto facile, perché è un'arte spesso molto superficiale. È un po' criptica, ma è volutamente un po' criptica. Quindi spesso l'arte è criptica perché dietro c'è qualcosa di importante da capire, da sapere. Quindi io non ci credo che l'arte contemporanea è un'arte più difficile dell'arte di altro tempo. Ma l'arte è semplicemente più brutta e non ci piace. Anzi, quello che ci fa orrore oggi è quello che ci piacerà domani. Spesso c'è un filtro di intellettualismo un po' respingente. Quindi c'è un discorso di eritarismo molto forte, che accompagna anche l'elite culturale o di potere. L'accesso all'approfondimento si può autocostruire e non è necessariamente dato da dei codici già scritti. Quindi in questo senso io ho avuto un maestro eccezionale che è Corrado Levy. Lui mi ha insegnato che il godimento verso l'arte, l'oggetto di arte contemporanea, può derivare da elementi che non sono necessariamente quelli canonici, perché sono dei percorsi che non si costruisce scoprendo dei fili sottili che poi riesce a evidenziare e che magari sono soltanto accennati all'interno del lavoro di un artista o di un gruppo di opere. È il lavoro del conoscitore che è estremamente possibile in questa grande varietà che offre il panorama dell'arte contemporanea. C'è una fase dell'opera molto indistinta, dove le opere in qualche modo cominciano a sobollire per conto proprio e io raccolgo tutti degli stimoli o delle cose che sono pronte per diventare opere e non so bene cosa succederà. In questa fase indistinta non lavoro nemmeno da solo, perché molto spesso tutti questi materiali o cose che ho attorno mi arrivano anche perché altre persone me le fanno notare. Anche in questa fase che uno può immaginare di ispirazione artistica, dove l'artista sta, che ho inchiuso un po' per conto suo, devo dire che nel mio caso non è così. Ma diciamo che la norma è quella di trovare dei materiali che mi interessano, magari un luogo che vado a visitare, di cui faccio delle fotografie e di cui rimano in memoria, perché spesso sono delle immagini. Sono immagini che io trovo già belle fatte, perché viviamo in un'epoca dove c'è una iperproduzione di immagini e quindi il mio lavoro artistico molto spesso è guidare l'attenzione verso delle immagini che mi interessano o selezionare delle immagini particolari che stanno sempre su degli oggetti speciali, dei libri, dei poster, delle cartoline, oggetti trovati che hanno una qualità particolare che mi interessa. Ci sono tutta una serie di suggestioni che vengono raccolte un po' per volta e che sono il materiale primario per elaborare un'opera. Questa fase di raccolta è una fase che ha anche un lato letterario, perché io mi scrivo anche tutte le liste di cose che mi interessano, che penso che possono essere utili o che si accatastano lì. Sono mai posto il problema se la mia arte va bene per essere un'arte di massa per un pubblico molto allargato o per un pubblico di puri amatori o di iniziati. Penso che nel mio caso, come in tante opere di arte, in generale, la fruizione può essere a livelli molto differenti, può fermarsi in superficie, può scendere in profondità. L'arte ha un lato introspettivo, anche per me stesso. Infatti ho passato tantissimo tempo a riguardare le cose che sto facendo o che fanno gli altri. Stavo guardando una cosa che avevo fatto tanti anni fa. Nel 1993 mi è stato chiesto di... ho cercato di utilizzare una ricetta che aveva messo a punto Alighiero Boetti per fare dei suoi libri fatti di fotocopie, che è una sua opera degli anni 90. E in occasione di un'esposizione di quei libri di Boetti i curatori chiesero a delle altre persone, non solo artisti, di cercare di utilizzare quella ricetta per fare dei nuovi libri con una copertina di un colore diverso da presentare assieme a quelli di Alighiero. Siccome ho riguardato recentissimamente questo libro che ho fatto io allora, dove io mi ero preso anche un po' di libertà rispetto alla ricetta di Alighiero Boetti, mi è venuto voglia di riprendere quel lavoro lì e penso che rifarò a più di 15 anni di distanza un libro fatto con quel sistema, cioè disegnando io delle immagini che raccolgo seguendo delle indicazioni che in realtà avevano già usato altre prima di me.